Per levare un po' di immunità fa bene lo Papa. È vero o no? È vero o no? Ma non ha vergogna di venire qua a talere chi siamo? Non ha vergogna. Non ha vergogna. Lei non ha vergogna. Lei deve avere vergogna, dottor Orlando. Deve avere vergogna. È venuto Conte qua a Palermo. Lei neanche si è presentato. Lei neanche si è presentato. Prendeva in giro le persone. Lei neanche si è presentato, dottor Orlando. Lei è un coinotto, dottor Orlando. Abbiamo una vita che ci deve dire che è coinotto. Lei è un coinotto, dottor Orlando. Altro te lo caso è giusto. Lei è un coinotto.